ai fate l'intro allora oggi siamo in una nuova prova a non ridere in quattro quello che vedete con la skin di venom e christian quello che vedete con la scuola copertura di carnage e salvatore e quello che vedete l'album ultimo bullizzato quelli in mezzo con la skin da fornit e giacomo ovviamente dopo ci sono io che c'è andrea dai mi conoscete tutti comunque vi devo ringraziare di un traguardo di 36 iscritti sono tantissimi vi ringrazio e quindi speciale provano ridere vai e iscrivetevi sì sì lasciate like eccolo la il nostro youtuber per un attimo aperto il canale dopo la chiuso vai iniziamo bello a me fa ridere christian ti fa come come con le bevande quindi siamo uno uno zero zero va bene dai non contiamo dai divertiamoci però cercate di trattenere le risate va bene togli gli annunci mi faccia ridere si aprirà la pubblicità cosa cosa è una salcina su una salcina su un uomo e vabbè non lo sto capendo non lo capisco hanno segnato no no la cedetta al gatto no no che male vabbè guarda guarda che faccia questo l'ho già visto no io no che bocca cosa mamma no che l'ho visto vai vai metti metti salva togli il mouse da davanti togli il mouse salva il mouse occupa il video il mouse ecco esatto togli questo cane questo sai chi è Gabriele quando cerca ragazze ecco questo sono io dai non facciamo questi esempi vai questo è un cagnolino provetto si si proprio ora te morde dov'è addio ho perso 50 anni di vita ma tu ne hai 11 si è tornato si è tornato a 39 anni prima di nascere salva cioè proprio no neanche 29 oddio no in verità 10 ma vabbè lui ha 11 anni salva noi ne abbiamo 10 facciamo la quinta cosa hai visto cosa hai visto cosa hai visto la coda cosa aia guarda che è che no cosa schipa 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 salva ecco cos'è quella roba non è cos'è ah il litropompa il litropompa i litropompa i pompieri su Fortnite ehi cosa no che schipo cos'è no no che cos'è guarda questo cane questo sono io guardate guardate quanto sono provetto guardate quanto sono bravo la scoperta dell'acqua calda no e chissà quando questo è Cristian questo è Cristian dai questo è pareggiamente Giacomo guardate Giacomo ma tu perché non parli ferma stoppa il video Giacomo siamo io e Andri fermo fermo Giacomo non lo so non so perché non parlo ci credo con quel microfono che fa giiii ma io e Andrea abbiamo il paga della situazione ecco questo sono io siamo noi due ci castriamo ecco e adesso cominciamo cos'è là sotto ma ho fatto oddio ce l'ho un toro no ha distrutto tutto cosa oddio un toro mamma mia ma chi è ha distruggito un vetro così però no 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 povero che no no non la lancia il cane ma fuori si ma guarda è bello che la freccia l'aveva tirata sotto ai piedi e come fai a non vederla ma il cane no ferma salva vi devo dire una cosa praticamente ho visto che gatto guarda la faccia guarda la faccia è il gatto di Giacomo no guardate la faccia è il gatto di Giacomo comunque voglio dire che i cani alcune volte ho visto un paio di cose su youtube che tipo c'era un tavolo di vetro il cane era sotto lui lanciava la pallina e rimaneva sul vetro e lui cioè era assurdo comunque vai continua vai metti metti comunque il bello è che siamo a 6 minuti di video ma il video siamo a solo a 3 minuti cioè è bellissimo vai metti metti vada 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 quanto è carino guarda guarda qui sono l'osso Giacomo Giacomo quanto sei chiuso no vabbè dai hai ritrovato la suonatura guarda che faccia questo nilio questo nilio guardate guarda che faccia guarda che faccia questo lo diamo Eva si sarà più bellissimo dai cos'è sto sgorbio Eva ma cosa sto perdendo cosa questa non l'ho capita è caduta la scimmia sono io non ho potuto farlo no questo sono io questo sono io dai sono palesemente io visto guarda sto pure trajardando vedi sono palesemente io infatti tocchi lo schermo infatti io quando gioco non uso le mani nella tastiera ma le metto sullo schermo i piedi usi esatto gioco con i piedi e il monito spento cosa 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 ho parlato cosa ha parlato no dai versi si capisce se parla dice tipo mia hello tomale offrendo no ma non correggia mi distruggio che cosa no l'hai fatta tu adesso salvatore hello ve l'hai deciso no 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 aspetta si è vero oddio c'è scritto pure fart scoreggia hello quello è giacomo giacomo vuoi parlare no 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 giacomo no giacomo no cos'è quella cosa 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 cos'è salva manda avanti manda avanti che io lo vedo sfocato meglio così guarda sì infatti è meglio anch'io vedo una cosa nera che gli spunta vai salva manda avanti salva c'è il mouse bloccato come non è vai vai copro io col mio salva salva oh no salva salva ti è morta la connessione salva salva andri taglia questa parte aspetta lo chiamo cosa sta facendo non ce l'ho da tre contatti salva ragazzi lo chiamo adesso in tempo reale eh guardate sono crashato ah ti guarda ti stavo chiamando è nero salo comunque dai io direi che possiamo formarci con salva crashato dai aspetta no guarda questo è un boost per i trenta quanti erano ma cosa me ne frega dei prodotti su facebook ormai chi lo guarda più facebook chi è che sta presentando salvatore io e vi faccio vedere una cosa guarda io so cosa no no non è quello che pensate no io non sto pensando niente solo che non mi fido di te quello appunto anch'io no no esci 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 o ti download la mamma oh non ti accambi a mamma e farà c'è il con google non posso farlo vedere non posso farlo vedere vabbè dai raga interrompo comunque spero che questo vi sia piaciuto ciao